il campione? il portaghiaccio il portaghiaccio? il portaghiaccio se che lo portaghiaccio a volte sono le risposte a tra poco il gallo del ghiaccio a tra poco quando voglio gustare il vero espresso italiano io scelgo dialetti ben tornato nel nostro negozio signor Gerry grazie beh con una gamma così ampia ho solo l'imbarazzo della scelta eh sì, le miscele della linea IK di Italia sono tutte ottime assaggerò Palermo energico, intenso e buonissimo anche per l'ambiente le capsule dialetti sono tutte in alluminio riciclabili al 100% nella torrefazione dialetti si studiano ogni giorno le migliori miscele per la moca e tutte le macchine espresso